Sono solo 7 gli italiani tra i 100 giocatori a livello mondiale che valgono di più. Lo dice la classifica stilata dal CS, l'Osservatorio sul Calcio, che ha tenuto conto dei 5 maggiori campionati europei Spagna, Italia, Germania, Francia e Inghilterra e dell'età, della durata del contatto, dei gol, degli assist, del ruolo e dello status internazionale. La classifica è guidata da Neymar Valore 213 milioni seguito da Messi 202,2, Cane 194,7, Vappè 192,6 e Dybala 174,6. I giocatori italiani presenti in questo speciale elenco sono appena 7, il primo è Insigne 24, o a 100,2 milioni, poi Immobile 46, o a 85,2, Velotti 61, o a 70,4 e quindi Chiesa 71, o, precedendo fra gli altri Aubameyang, Zecco, Draxler e Asensio al quale è bastato disputare appena una stagione e mezza in Serie A per attirare su di se l'attenzione internazionale e vederli evitare sempre più le sue quotazioni, è valutato 65,1 milioni. Più indietro, tra gli italiani, risultano Verratti 78, o a 62,8, Donnarumma 95, o a 51,0 e Pellegrini 99, o a 50,6. Per la Fiorentina non sarà facile trattenere il giovane figlio d'arte anche se di recente Andrea della Valle ha ribadito che l'intenzione è quella, come conferma anche il fresco prolungamento fino al 2022 sottoscritto dal giocatore con un robusto ritocco all'ingaggio, ma club ricchi e potenti sono in agguato, fra questi Napoli, Juve, Inter e pure esteri. Al momento Chiesa è il beniamino dei tifosi e un punto fermo della squadra, diritti d'autore e riproduzione riservata.